Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Loretta Goggi è una delle cantanti, attrici, doppiatrici, conduttrici televisive e radiofoniche, ballerine, scrittrici e sugarli italiane più amate e seguite dal pubblico del bel paese. La Goggi ha contribuito ad arricchire il panorama del mondo dello spettacolo grazie alle sue incredibili doti canore ed artistiche. Nel 1979 la Goggi ha fatto un incontro che le ha cambiato la vita in modo drastico. L'artista stava lavorando a Fantastico, vecchio show tv molto amato all'epoca, e li ha incontrato Gianni Brezza, il ballerino che l'avrebbe estruita nelle coreografie. Tra i due è nata subito una grande intesa che, poi, è diventato un amore profondo e intenso. Brezza, più grande di 13 anni, ha lasciato una moglie e tre figli per iniziare una relazione sentimentale con Loretta. La coppia è stata insieme per ben 32 anni e nel 2008 si sono finalmente sposati. Tuttavia, l'idiglio è finito presto, Gianni si è ammalato, è stato colpito da un tumore e nel 2011 è passato a miglior vita. Dopo la morte dell'amato marito, Loretta ha vissuto molti anni chiusa in se stessa, addolorata, triste e depressa. Ha anche rischiato la vita a causa di un malfunzionamento della tiroide. Fortunatamente, il tempo guarisce le ferite e la Goji è stata in grado di ritornare in tv, davanti al suo pubblico adorante. Sulla rivista Nuovo TV si possono leggere le parole di Loretta Goji circa l'adorato marito e il suo nuovo programma. E io penso a lui ogni volta che vado in scena. È al ricordo di mio marito che dedico questo mio show.